Sindaco, il presidente De Luca oggi ha fatto la dichiarazione, ha detto sull'autonomia vado avanti da solo perché non c'è bisogno di pulcinellismo. Ormai ho capito da tempo per i provvedimenti che adotta più volte, lui non sopporta proprio la città di Napoli, la storia della nostra città, Pulcinella, noi siamo molto legati a Pulcinella, quindi lui pensa di offendermi quando parla di Pulcinella, invece sono contento perché Pulcinella aveva tra le varie virtù quello di smascherare il volto maldestro dei potenti, quindi ben venga, però questo continuo modo di offendere Napoli, noi andiamo avanti per la nostra strada in modo talmente efficace che siamo stati primi a porre il tema dell'autonomia con la delibera Napoli città autonoma, con la moneta su cui stiamo andando avanti, con la lotta sul debito ingiusto, sulle battaglie politiche e istituzionali di questi anni e tanto è vero che domani ancora una volta siamo protagonisti di tutto questo con una conferenza stampa che faremo a Montecitorio, quindi come comune di Napoli, non è un comizio, non è un corteo in cui entreremo anche nel merito delle questioni, noi non diciamo solo dei no, perché noi rispettiamo innanzitutto la volontà popolare del popolo lombardo e del popolo veneto, noi diciamo dei no a un governo che non si fa garante dell'unità nazionale quindi decide di rompere ancora di più l'unità sotto il profilo delle disuguaglianze e delle discriminazioni, non garantisce un paese unito che valorizzi tutte le autonomie e le differenze e soprattutto non dà la vera autonomia a chi ne ha bisogno, cioè le città, quella sarebbe una vera operazione per chi ha a cuore le autonomie, come dovrebbe farlo la Liga se guardiamo un po' al loro statuto, il Movimento 5 Stelle che è stato molto votato al Sud, quindi dovrebbe avere a cuore la lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni, quindi noi porteremo proposte di questo tipo, innanzitutto più potere ai territori, più potere al popolo, più potere alle città e se proprio devono cominciare dalle regioni non si faccia per tutto il paese, altrimenti veramente non si comprende perché noi dobbiamo correre il rischio di tutto questo e quindi ancora una volta siamo in prima linea in questa battaglia e con noi ci sarà anche Pulcinello.